Parola al direttore, il nostro format che analizza le notizie e i temi più caldi del momento attraverso la voce dei grandi giornalisti di casa nostra, dei grandi direttori e quindi delle firme del nostro giornalismo italiano e naturalmente faremo il punto su quelle che sono, come detto, le notizie più importanti di questo momento. Una parola su tutte, ahi noi ce la dobbiamo ancora portare appresso, che è coronavirus covid-19, ma attenzione perché sarà interessante capire anche come viene valutato in questo momento il lavoro del giornalista. Stanno facendo bene i giornalisti italiani nell'informare su questa pandemia mondiale? Oggi ne parlo con Angelo Maria Perrino, direttore di affaritaliani.it. Angelo, bentrovato e benvenuto nei nostri studi. Buongiorno, grazie per l'invito. Ci arriviamo tra poco a dare un giudizio, una valutazione ai giornalisti italiani. Prima, così, permettimi di chiederti se abbiamo fatto dei passi avanti nell'interpretare anche l'informazione che ci arriva rispetto al covid-19. Da quando è esplosa prima della primavera, quindi dall'inizio di questo 2020, a oggi, quando si parla ormai di seconda ondata, insomma, in cui stiamo rifacendo i conti con questo virus? Ma io sono molto critico. Per fortuna dirigendo un giornale online non ho, diciamo, certe difficoltà che hanno i giornali cartacei, i quali vengono disegnati nel pomeriggio, impaginati, e quindi una volta che hanno costruito la gabbia grafica su quell'evento, su quel titolo, devono portarlo avanti. Peccato che poi magari entrosera la notizia non c'è, ma devi scrivere comunque. Allora, questo è il difetto dell'informazione di oggi, è molto spinta e tutto ciò si può capire e giustificare, tra virgolette, in tutti gli argomenti, ma non si può quando si parla di salute o, per esempio, quando si parla di risparmio, di denaro. Sono due valori che la Costituzione stessa, il risparmio e la salute, tutela e vedo che invece spesso nei giornali, seguiti poi dai talk show, eccetera, eccetera, perché si condizionano l'uno con l'altro, spesso il piede scivola dalla frizione e si va a ruota libera con un servizio non buono per la pubblica opinione, che infatti restituisce un distacco, una disaffezione rispetto alla lettura che è figlia di questo bailam. Vorrei fare una riflessione così, mentre ne parliamo con te ad alta voce, che però è una riflessione che di solito faccio da sola, no? Dobbiamo partire dalla distinzione proprio della professione del giornalista, nel senso che c'è il giornalismo più di stampo anglosassone, mi verrebbe dire più distaccato, no? Dalle cose, tutte le cose che un giornalista si trova ad analizzare, pensiamo se addirittura ci riferiamo a salute o a risparmio, quindi a soldi, quindi stampo anglosassone o un giornalismo che ormai è condito da opinioni, dove è chiaro che non è l'opinione in sé che è sbagliata, tutti noi abbiamo un'opinione, anche se siamo giornalisti, ma è come l'opinione viene buttata nella notizia. Ecco, è cambiato in quel senso il lavoro da giornalista, a tuo parere? Assolutamente sì, hai centrato il punto. Io vengo dalla scuola di Panorama, quando Panorama era il grande settimanale, la grande scuola di giornalismo di Lamberto Secchi, era un news magazine, ed era la scuola proprio di giornalismo anglosassone, era un esempio mutuato da Time, da Newsweek, i grandi settimanali americani di notizie. Ebbene, io sono formato alla famosa distinzione tra i fatti separati dalle opinioni, sono formato all'eliminazione di ogni personalismo, l'ego che oggi straripa invece va trattenuto, va gestito, va controllato e oggi invece no, non si distingue più tra fatti e opinioni, spesso il giornalista si pone egli stesso al centro dei fatti, spesso, ripeto, si piega per motivi di audience la verità al titolo strappato, al titolo che deve fare in giro dei social, fregando il concorrente. Purtroppo diciamo che il giornalismo meriterebbe una severa autocritica, dovrebbe recuperare, io dico, i principi che si imparano alla scuola dell'obbligo del giornalismo. Forse molti degli attuali giornalisti non hanno fatto le scuole dell'obbligo. Ma ti faccio questa domanda, ma bene, prima l'uovo o la gallina, che è un dilemma, voglio dire, che c'è da sempre, ma se parliamo del lavoro da giornalista, comunque dell'informazione. Cioè, sono i giornalisti che sbagliano oppure, purtroppo, volenti o nolenti, è quello che il pubblico chiede, il famoso click, che si mette, soprattutto quando si parla di giornalismo online, e quindi fa aumentare le visualizzazioni, quindi il pubblico lo chiede e di conseguenza, insomma, vuoi o non vuoi, funziona come qualsiasi altra attività commerciale, no? Se io ho un negozio, la gente mi compra più una cosa piuttosto che un'altra, io automaticamente l'ordine lo farò di quella cosa lì e non dell'altra. Indubbiamente quello che dici è vero e siamo condizionati dall'audience, sì. Ma dobbiamo ricordarci che parliamo di informazione, quindi l'informazione non possiamo considerarla come un normale prodotto che obbedisce alle leggi del marketing e basta. L'informazione è un valore delicatissimo, è un valore che attiene alla civiltà, alla cultura, al senso civico di un popolo, alla libertà di un popolo, senza una libera informazione non c'è democrazia. L'informazione è potere e quindi dovremmo gestirla con maggiore attenzione e non solo tenendo conto dell'audience. Facciamo un esempio, una degenerazione, la RAI, perfino la RAI, che è il servizio pubblico che paghiamo col canone, è entrata in questo loop e insegue anche la RAI l'audience. Questo è veramente il massimo delle contraddizioni. Ma se avete un canone proprio per emanciparvi dallo spot e per fare dei servizi, non dico educativi come diceva la CNN e la BBC, ma insomma servizi slegati dal bisogno di fare numeri, perché continuate a inseguire queste leggi della TV commerciale? Anche perché poi è complicato stabilire dove ci sia voglia di informazione, cioè di conoscere un fatto, un evento e di avere una notizia dalla morbosità. È un confine sottile, però a questo punto, seguendo il tuo ragionamento, e vediamo se lo condividiamo come pensiero, dovremmo essere noi giornalisti. Adesso ci siamo messi un po' sul banco degli imputati, ma è giusto. Dobbiamo fare autocritica. Ecco, dobbiamo essere noi a guidare un minimo, perché è il nostro campo, un po' come un negoziante che deve prima stabilire che tipo di negozio vuole fare, vuole avere e a che tipo di clientela vuole rivolgersi. Sì, parliamo per esempio di tutte quelle trasmissioni da chi l'ha visto in giù, a proposito di morbosità, che entrano nella cronaca in questo modo pesante, a volte violento, a volte truculento, indiscreto. Gran ghignolesco, si diceva una volta, e anche lì è la logica dell'audience. Non è possibile muoversi così pesantemente. Vedo delle trasmissioni che diventano dei tribunali, emettono sentenze su casi di attualità, ancora caldi, con giornalisti scatenati che dicono no, questo non è pazzo, è sano. Ma come fai a dire queste cose? Addirittura abbiamo l'abruzzone che va in tv a fare il perito di tribunale, lo fa in televisione ben prima. Ecco, tutta questa sovrapposizione di ruoli, dove io la sintetizzerei in un tema su cui sto ragionando molto in questi tempi. Cioè si è persa la forma delle cose, andiamo sparati sulla sostanza che va bene, ma la sostanza ai miei tempi, quando io ho iniziato, veniva inglobata in una forma molto rigorosa, molto curata. Forma vuol dire la gabbia con i paletti dentro la quale i giornalisti devono farci stare il loro prodotto, se no è il caos. Oggi c'è un giornale che ha pubblicato in prima pagina la testa mozzata del povero professore francese che è stato sgozzato. Mi ricordo che ai miei tempi quando uscirono le foto di Pasolini, del cadavere o di Aldomoro, ci furono dibattiti lunghissimi e scandalo. Oggi per ragioni di audience non si esita a offrire in prima pagina e quindi nelle rassegne stampa e quindi eccetera, 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 una testa tagliata. Figuriamoci, ma insomma tu sai meglio di me che per esempio deontologicamente parlando il giornalista non dovrebbe neanche mai fotografare un uomo con le manette proprio per non ledere la sua dignità personale. Figuriamoci quando parliamo di immagini cronente come queste. Ma insomma si sono un po' abbattuti tutti i confini, come dicevo prima, tra quello che è lecito e quello che non è lecito, che poi forse non è neanche la parola giusta. Intendo dire quando si parla di una cosa lecita nella professione di riferimento, in questo caso del giornalismo. Però una cosa va detta con chiarezza, è un lavoro che dobbiamo fare noi giornalisti. Non possiamo sollecitare interventi dall'esterno, perché dall'esterno vuol dire censurarci, vuol dire comprimere la libertà. Noi dobbiamo difendere la libertà dei giornalisti, ma dobbiamo saperla gestire, perché se no interviene il legislatore e quella io la chiamo censura. Altrimenti se no poi la flessibilità che di persona è una parola positiva diventa negativa. Arriviamo alla censura, ci daranno le regole e a quel punto non siamo più in una società libera. A proposito di regole, guarda, mi viene spontaneo il collegamento, pensando al periodo che abbiamo vissuto di lockdown e quindi coronavirus. Intanto domanda proprio secca, se ti chiedo che voto dai al giornalismo italiano, ai giornalisti italiani nel periodo Covid? Quattro. Ecco, proprio non ci avviciniamo minimamente alla sufficienza. No, no, perché continuo a parlare dei miei tempi. Ai miei tempi Lamberto Secchi, il grande fondatore di Panorama, avrebbe messo sei dei suoi migliori giornalisti, li avrebbe scatenati sul territorio con la famosa inchiesta, facevamo le inchieste, incrociavamo le fonti, raccoglievamo i materiali, poi si scriveva a sei mani, passandoci le notti e poi da tutta Italia i corrispondenti producevano e quindi c'era un'informazione indipendente. Adesso si cerca il titolo ad effetto e il giornalismo del Covid non ha prodotto alcuna inchiesta e ci ha lasciati noi cittadini nella totale incertezza su come venivano calcolati i contagiati. Io per esempio ho prodotto un documento, una circolare del Ministero della Salute che sconsigliava, dicono loro, in sostanza vietava le autopsie. Circolare del Ministero mandata a regioni, ospedali, prefetture, comuni, eccetera. Quello è stato un errore clamoroso che ha impedito di capire che cosa significava quella malattia. Per settimane e settimane a causa di questa circolare, non essendosi stata fatta l'autopsia, hanno curato il Covid nel modo sbagliato provocando delle morti. Ecco, tutto ciò nei giornali non l'avete letto. Abbiamo pubblicato questa circolare, abbiamo indicato della persona che l'ha prodotta e così è andata. Finalmente quando dei medici disobbedienti, eretici, hanno a rischio della propria professione fatto le autopsie, si è capito che il Covid colpiva le vene e le arterie provocando delle trombosi e che bisognava quindi curare lì, non nei polmoni come facevano iniettando ossigeno e così facilitando la morte del paziente. Tutto questo, se avessimo avuto un giornalismo impegnato e sul campo, da subito sarebbe emerso e forse tanti dei morti che piangiamo sarebbero ancora vivi. Mi rendo conto che è una cosa pesante, però me ne assumo le responsabilità. No, no, è un'altra delle regole del giornalista, poi qui si parla di direttore. Viene da sé però che appunto, qui dobbiamo collegare un po' tutto, se l'informazione, non voglio dire sbagliata, però non va nella direzione che deve raggiungere e ovviamente viene recepita dagli utenti, insomma in modo sbagliato, a catena si amplifica e si riversa poi nel modo di raffrontarsi con le cose e di appunto recepire le cose, cioè il coronavirus è un esempio lampante, è un momento emergenziale che ben si associa all'idea anche di catturare letture, odiense eccetera, perché se si fa un titolone sensazionale ovviamente le persone vanno a cliccare, però automaticamente le persone avranno più paura, si va alla pancia delle belle espressioni che insomma di solito si usa di più e quindi poi di conseguenza anche gli atteggiamenti e le decisioni che vengono prese, ripeto io sto collegando un po' tutto, poi mettiamo ordine insieme e chiedo a te di farlo per primo, anche le decisioni che vengono prese a livello istituzionale comunque tengono conto di ciò che la gente prova nei confronti di una certa situazione, quindi domandona finale, non è che siamo soggetti anche a delle regole, a dei comportamenti che in parte sono dettati dalla nostra paura e quindi anche da notizie immagazzinate in modo sbagliate, ma non perché siamo noi che non le abbiamo immagazzinate bene, ma perché ci sono state riferite anche in modo sbagliato, però l'entità della questione è enorme. I danni che si fanno sono immensi perché diceva Einaudi conoscere per deliberare, quindi conoscere, apprendere è la funzione fondamentale per vivere, per decidere, per orientarsi, se la conoscenza che ci viene proposta dai mezzi di informazione è truccata, è adulterata, è spinta da quei motivi che abbiamo detto e da quelle degenerazioni, il cittadino non conosce sostanzialmente, o peggio conosce falsità, fake news come si dice adesso. E la triste realtà è un problema grave che, ahimè però, l'opinione pubblica non percepisce, l'opinione pubblica è distratta, è superficiale, non si rende conto di quanto invece sia importante reclamare un'informazione rigorosa, seria, indipendente, che è l'altro tema poi, l'indipendenza dei giornali. I giornali sono nelle mani di gruppi industriali e finanziari che li hanno scalati negli anni 80, la Mondadori, l'RCS etc., e che quindi sono stati usati più come strumenti di lobbying e di lotte di potere che non come presidio costituzionale dell'informazione e aziende che vendono contenuti e oggi ne paghiamo le conseguenze e ancora una volta i giornalisti hanno sbagliato perché in questo coacerbo di conflitti di interessi si sono schierati con questo o con quell'altro potente e si sono messi l'elmetto e li vediamo tutte le sere nei talk show, i colleghi di cui parlo, a sostenere una tesi o l'altra come fossero i rappresentanti di questo o di quello schieramento e non dei direttori indipendenti che cercano la verità, se posto che si possa scomodare una parola così complicata. Sì, e invece il paese in quanto sistema, che comprende un sacco di cose, c'è politica, istituzioni in generale, classe medica, insomma come si è comportato in questa situazione emergenziale e soprattutto in vista anche del futuro perché poi in questo momento chiaramente all'idea dell'emergenza sanitaria si parla solo ed esclusivamente di economia, di futuro, di PIL, di crescita, di aiuti che devono arrivare non solo dal nostro governo e quindi dal nostro interno ma anche dall'Europa ad esempio, quindi insomma tante questioni che però riportano sempre grossi interrogativi sulle spalle. Ma il paese si è fatta molta retorica, prima diventeremo tutti più bravi, andrà tutto bene, le canzoni alla finestra, che bello, tutte voghe giornalistiche stimolate sempre da questo bisogno di cercare la notizia anche dove non c'è. Secondo me il paese quando è stato stabilito il lockdown generale ha dovuto chiudersi in casa e quindi non vedo nessun eroismo. Quando il lockdown è finito il paese si è giustamente liberato forse di più di quanto non dovesse, forse bisognava mantenere un po' più di prudenza rispetto a certi atteggiamenti che abbiamo visto, però il paese sappiamo sceglie i suoi rappresentanti quindi comunque la responsabilità è sempre dei cittadini. Ma devo dire che abbiamo avuto una gestione complessiva del fenomeno piuttosto insufficiente. C'era la scusante nel primo giro del coronavirus che era un male sconosciuto e quindi capisco certe incertezze, non capisco quegli errori di cui parlavo prima, la mancanza delle autopsie è stata una follia o qualcosa di… poi si è detto ma però volevamo evitare che le autopsie diffondessero i virus, ma abbiamo sentito gli esperti, gli anatomopatologi, i medici legali hanno detto ma no, le autopsie noi siamo capaci di effettuarle in condizioni di assoluta sicurezza, è una cavolata. Sulle fake news, ahimè, io avevo intervistato 2-3 anni fa Luigi Di Maio, quando era ancora Luigi Di Maio, adesso sia lui che il Movimento 5 Stelle hanno perso identità e non si sa dove si collochino esattamente e anche Di Maio in questo movimento, non si sa bene da che parte sia, però quando era Luigi Di Maio mi disse che i principali produttori di fake news sono Corriere, Repubblica e i telegiornali. Quindi… Ah, i telegiornali in generale. In generale, cioè lui pose proprio il dito, non sono il piccolo sito del ragazzotto che ha voglia di far casino, ma proprio viene dall'informazione ufficiale, scritto e alludeva a quei fenomeni che dicevo prima, anche perché i grandi giornali e le televisioni hanno creato il cosiddetto mainstream che a vicenda si passa la palla e si sono appropriati della produzione del senso delle cose, che è la vera arte dell'informazione sofisticata, cioè io ti dico il significato dei fatti, io mi sostituisco a te e alla tua intelligenza ed elaboro per te il significato, il senso. Questo è stato il presidente Conte che per la terza volta, per la terza estate consecutiva è stato mio ospite in un evento che realizzo in piazza al mio paese, si chiama proprio La Piazza, la politica dopo le ferie, invito dei politici, i principali, a discutere di quello che succederà a rientro e ho avuto ospiti Salvini, Lameloni, Toti, Prassi, un po' come l'Ambrosetti di Villa d'Este, io lo faccio al sud. Ebbene è venuto Conte anche quest'estate e proprio parlando di questi temi di cui oggi stiamo chiacchierando, gli ho chiesto i giornali, cosa ne pensa dei giornali, e lui dice no, io non li leggo perché non ho tempo, ha detto forse con una forma diplomatica di scuse. E poi ha detto, d'altra parte dice, mi attribuiscono tra virgolette delle frasi che io non ho mai detto. E questo già è una botta terrificante. Ma poi ne ha aggiunto un'altra e dice e oramai io non li smentisco più neanche. Quindi non serve neanche appunto farsi sentire e dire guarda che forse è una falsità. Cioè capisci che cosa terrificante, che i lettori leggono delle parole virgolettate nella bocca di Conte che sono false, che Conte non riconosce, ma che non ha più voglia e tempo di smentire. Quindi il problema è diventato gigantesco. Si è incancrenito. Capito quante cose vengono attribuite a Conte, perché le abbiamo lette ed erano tre virgolette, che lui non ha mai detto. Però probabilmente ci vorrebbe una persona che tutti i giorni lega i giornali e dica no, questo non è vero, quello non è vero. Sì, sarebbe improfinibile. Conte l'ha risolta dicendo non me ne occupo più. Figuriamoci se già quello che leggiamo non corrisponde a esatta verità, quando poi la stessa notizia diventa il telefono senza fili, cioè quando passiamo parole e si riferiscono anche magari in sedi dove non si approfondiscono le notizie. A volte si legge il titolone e magari poi nell'articolo, anzi quasi sempre nell'articolo c'è scritto tutt'altro, però se ci si ferma lì magari vengono riparate delle parole che il Premier, ma chiunque altro, perché poi riguarda tutti, non ha nemmeno pensato e quindi questo è sicuramente grave. Ma insomma, e quindi l'Italia, se anche nella comunicazione stiamo peccando, a cosa si può aggrappare? Visto che, l'ho detto poco fa, si pensa al futuro, alla crescita, alla rinascita, perché poi insomma dobbiamo in qualche modo risorgere dalle cenere a un certo punto, finalmente speriamo quando il coronavirus non ci sarà più o quando sarà diventata una cosa di routine, non certo come la stiamo vivendo adesso. E come a cosa aggrapparsi? Guarda, mi viene in mente Ennio Flaiano che diceva che in Italia la situazione è grave ma non seria. Ecco, mi pare che questo sintetizzi bene. L'Italia, io faccio giornalista da qualche decennio e oramai sono alle ultime battute, diciamo, la mia sensazione è che l'Italia non sia riformabile, anzi degenera e peggiora. Io faccio parte della generazione che ha vissuto con interesse il compromesso storico, cioè i comunisti che si avvicinarono al potere, governarono anche in quella forma un po' strana che era l'unità nazionale e ci siamo magnati i comunisti. Poi emerse il fenomeno Craxi e abbiamo avuto fiducia che quell'uomo energico portasse questa sua efficienza milanese, lo chiamavano il tedesco, quindi socialista, per cui un'efficienza temperata da valori di solidarietà e ce lo siamo magnato o si è mangiato da se stesso con le note vicende. E Berlusconi, l'uomo che doveva portare l'imprenditoria, il liberalismo e ce lo siamo magnato o si è mangiato da se. E Bossi che doveva ricostruire il federalismo, un'Italia più vicina ai territori ed è andato. Movimento 5 Stelle, l'abbiamo citato poco fa. Adesso ci siamo mangiati pure i 5 Stelle e ora si vive in questa precarietà di un governo eterogeneo dove si sono alleate due forze che fino a un attimo prima si mettevano le dita negli occhi e mediate da un presidente, Conte, che per sua fortuna essendo un avvocato cerca e ottiene spesso le giuste mediazioni, quindi meno male che Conte c'è mi verrebbe da dire, ma è evidente che ci sono dei limiti strutturali che non consentono di fare nulla di significativo. Secondo me la grande occasione storica è stato il primo Conte, quando Leghisti e 5 Stelle, due movimenti partito diversi, che rappresentavano il popolo contro le élite, non esprimo un giudizio di parte, esprimo un giudizio tecnico, forse in quel momento se l'esperimento fosse stato ben capito e ben condotto, Mattarella l'aveva capito, tant'è che favorì quel fenomeno, forse avremmo avuto la possibilità con queste forze fresche e in qualche modo temperate reciprocamente e dall'alto, forse avremmo avuto l'occasione di mettere mano a qualche cambiamento reale, ma anche lì esaltata per quella decisione di Salvini, che io dico si cappottò nel parcheggio e decise di uscire dal governo e da quel momento la maionese impazzita. A proposito di maionese impazzita, direi che in questo momento c'è tanto su cui impazzire, io mi auguro presto di poter richiacchierare con te, richiacchierare, non so se si dice ma mi piaceva per terminare questa, vabbè ogni tanto dei neologismi, perché sarà interessante vedere come tutte queste incertezze vengono declinate e verranno declinate, non solo da parte di chi ci governa ma anche da parte di chi ci informa e tu che so che segui le fonti tv sai che io nei miei spazi insisto sul razionalizzare un po' tutto prima di parlare, perché poi altrimenti si fa il danno, non sembra, ma se una persona si fida di te, si fida dei tuoi articoli, si fida di quello che io dico in diretta, basta uno e poi a catena si peggiora la situazione, quindi insomma mi auguro che ci sarà presso il modo di fare un altro riepilogo insieme. Io vi ringrazio per l'ospitalità, sono un po' pessimista, mi auguro che sia come tu dici, spero che delle persone giovani che abbiano voglia reinventino un po' anche il modo di far politica, cioè recuperiamo una politica con le parole civili, un confronto elegante e soprattutto liberiamoci da questa ossessione dei social e della Nutella e dei il titolo sparato. Con l'educazione si può dire tutto, questo è un po' il mio motto, non c'è bisogno di urlare né di essere maleducati, anzi chi lo fa vuol dire che non ha altri altri. Anche riscoprendo le battaglie di minoranza. Certo, certo, vero, verissimo. Non è necessario essere in tanti per aver ragione, a volte le grandi rivoluzioni partono da una piccola goccia come ci insegna la sapienza orientale. Farò tesoro di quello che mi hai detto e che ci hai detto, quindi grazie Angelo Mariperrino, direttore di affaritaliani.it, naturalmente leggiamo e ti leggiamo e noi presto torneremo con ancora parola al direttore, ma naturalmente con tanti altri approfondimenti, quindi grazie a tutti voi per averci seguiti e restate sulle fonti tv. Grazie.